Se dovessi oggi come oggi dire qual è l'area più calda e più potenzialmente pericolosa del pianeta direi sicuramente il mar di Cina, il mar cinese. Le isole di fronte alla costa della Cina perché è un problema di sopravvivenza geopolitica per la Cina quella di ottenere il controllo di una parte di queste isole, però è una situazione potenzialmente molto pericolosa perché su queste isole ci sono parecchi altri paesi della regione e non solo della regione perché ci sono ovviamente anche gli Stati Uniti, c'è in qualche maniera anche l'India e così via che sono interessati. Se i cinesi decidessero di prendere possesso militarmente di queste isole questo potrebbe mettere in moto un concatenamento di effetti il cui esito è difficile da immaginare. l'altro fronte che è più conosciuto non perché se ne sappia molto di più ma perché se ne parla molto di più è il Medio Oriente naturalmente, però il Medio Oriente non è una zona dove ci sono dei grandi rischi di scontro fra le grandi potenze. in realtà c'è un conflitto fra le potenze locali evidente che tra l'altro non si combattono fra di loro ma fanno combattere degli altri al loro posto, questo si è visto bene in Iraq e in Siria, in Siria in particolare, su cui le grandi potenze cercano di intervenire e di trarre i loro vantaggi. Il caso evidente è quello della Russia perché è intervenuta direttamente però gli americani sono coinvolti, i francesi sono coinvolti, quindi la situazione è resa complessa da questa molteplicità di attori, però in realtà non è una situazione in cui le grandi potenze possono entrare in conflitto, perlomeno non immediatamente, anche perché gli interessi in gioco delle grandi potenze non sono più concentrati al Medio Oriente e quindi è evidente che il problema è un problema di potenze locali. Se il conflitto è un conflitto fra potenze locali può essere devastatore per le popolazioni come lo è, non soltanto in Siria ma anche in Yemen, di cui si parla molto poco, ma non può o comunque molto difficile che possa degenerare in un conflitto internazionale.